Ehi Diego, siamo a Place de l'Ofra, e che abbiamo comprato da Lafayette gourmet? Macarons, e come si chiamano? Bonbon Makiyashi di questo pasticcere giapponese che in Francia si è fatto un nome Vabbè intanto c'è gente di un certo livello Il finese che canta i piccoli da Place de l'Ofra Impagabile Mentre stiamo per mangiare i macaroni e i cioccolatini di un giapponese che come si chiama? Sada Haru Aoki Sada Haru Aoki Fammi vedere i macarons, eccoli qua Echì qua, spero di cacci Caccioli Sperando che siano anche boni Eh? Come li abbiamo presi allora? Quelli là, tipo Cassia, Violetta, Wasabi e un Yoshi 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 Yuzu Yuzu, bravo Che è tipo un agrum giapponese, vedremo Sì 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 Sì